Sinaco Fontana, queste sono le battaglie della Lega? Queste sono alcune delle battaglie della Lega, quelle che ci riguardano direttamente, quelle che riguardano tutti i lavoratori, tutte le persone che vengono sempre più vessate da questo Stato che non è in grado di dare risposte ma è in grado soltanto di aumentare le imposizioni di tassazione, dirette e indirette. Io ho detto che l'autostato milano-varese dovrebbe essere considerato un servizio sociale per l'economia perché chi percorre questa autostrada contribuisce a creare un po' della ricchezza di questo Paese, invece si cerca di penalizzare. In altre parti del Paese le autostrade sono gratis e nessuno si preoccupa di aumentare alcunché. Cosa strana è che non ci sono qua tutti i cittadini, solo la Lega è presente, perché? Questo bisognerebbe chiederlo ai cittadini, è chiaro che forse la sensibilità è soltanto nostra ma in questo momento c'è una confusione generalizzata tale per cui è anche difficile dare delle risposte e interpretare quello che pensano i cittadini.